azione che vuoi? chi ti ha fatto entrare? era aperto sei sparita piantala Diego manco rispondi ai messaggi prima dici che non vado bene e poi che ti devo fare? da balia? tu ora non fai che prendi e sparisci non lo puoi fare perché a me è sempre mancato un pezzo sai poi quando ti ho conosciuto sono completo mi manca niente siamo due problemi un problema con un altro problema sai che fa un gran casino no non siamo due problemi siamo due che si capiscono come solo noi ci capiamo nessuno ci può capire come ci capiamo noi e sai una cosa io ora sto bene perché 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 per te non cambia nulla è normale è normale certo è normale è bene anche per me tu con tutti i problemi tutte le cose non valgono niente tu sei perfetta così però siamo sempre due problemi non è che siamo due problemi noi insieme siamo particolari siamo siamo come la pizza coi fichi oppure meglio ancora l'aceto balsanico sulla cioccolata perché l'aceto va sulla cioccolata sì e pensi sia strano però però è bello è buono è buono io voglio fare la cioccolata puoi sputare la gomma per favore è buono Grazie.